parmigiana di alici, facciamole insieme! per prima cosa dobbiamo cuocere la salsa di pomodoro, quindi olio extravergine di oliva e uno spicchietto d'aglio, dopo qualche istante aggiungiamo la salsa di pomodoro, non aggiungete assolutamente acqua, mettiamo un po di sale, due foglioline di basilico e facciamo cuocere per 15-20 minuti a fiamma molto bassa senza coprire, mentre la salsa di pomodoro cuoce ne approfittiamo per preparare le alici, come vedete le ho già pulite, tolto la testa, spinate ed aperte al libro, ora le passiamo nella farina e mano a mano le appoggiamo in un piatto, infarinate tutte le alici ci spostiamo sul piano cottura, vedete ho messo in questo piatto le uova, il latte, sale e pepe, ora per un secondo immergiamo le alici nell'uovo, olio bollente e friggiamo, quando saranno belle dorate le togliamo e le appoggiamo su un piatto con della carta assorbente, una volta fritte tutte le alici mettiamo sul fondo della pirofila senza esagerare, un po di salsa di pomodoro, sistemiamo, guardate quanto sono belle, le nostre alici, un pizzico pizzico di sale, un pochettino di prezzemolo, parmigiano, un po di fior di latte o mozzarella, vi consiglio del giorno prima, in maniera tale che cacci meno latte, un pochettino di salsa di pomodoro così senza esagerare e facciamo un secondo strato con le alici, fatene quanti ne volete, io ne faccio in totale quattro alla stessa maniera, l'ultimo strato lo facciamo mettendole di traverso, qui facciamo diversamente, mettiamo prima un po di salsa di pomodoro, il prezzemolo, il parmigiano ed anche qui un pochettino di fior di latte, se volete fatela sgocciolare bene, io vi consiglio anche di mettere la provola affumicata che secondo me ci sta ancora meglio, perfetto, guardate che bella, ora mettiamo in forno per 20 minuti a 200 gradi, a tra poco, eccola qui, l'ho fatta intiepidire un po', l'ho messa per qualche istante sotto al grill, adesso la taglio e ovviamente ne assaggio un pezzetto con voi, mamma mia! Favolosa! Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, se siete su youtube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su segui se siete su facebook, io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito e approfitto per augurarvi buon appetito!